Ben trovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud per il nostro appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Cominciamo questa puntata parlando delle attività che si svolgeranno in mare durante il fine settimana. Il 28 agosto dalle ore 6 alle ore 13 nel tratto di mare antistante l'area marina protetta delle 5 terre si svolgerà il campionato provinciale di pesca spinning da natante. In questa zona quindi dalle 6 alle 13 sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima, subacquea o di superficie estranea alla gara di pesca. A partire da lunedì 29 agosto e fino al 15 febbraio, in orario diurno, la società Baglietto S.p.A. effettuerà dei lavori di ampliamento della darsena di Alaggio e Varo dei piazzali su area mare, nonché la realizzazione di un impianto idrogeno con installazione di un impianto fotovoltaico nel compendio in concessione al cantiere navale Baglietto del porto mercantile della Spezia. Nel periodo di tempo nella zona interessata è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare, fatta eccezione per il personale e le unità impegnate nelle attività. È fatto obbligo a tutte le unità in transito, nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo comunque la minima velocità di sicurezza. Fino al 9 settembre, in orario diurno, la società Artsub S.rl effettuerà dei lavori inerenti alla realizzazione di un sistema di ormeggio provvisorio per imbarcazioni da lavoro, presso la banchina posta alla radice del molo Enel della rada interna del porto mercantile della Spezia. Nel periodo di tempo in questa zona è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare, fatta eccezione per il personale e le unità impegnate nelle attività. È fatto obbligo a tutte le unità in transito, nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo comunque la minima velocità di sicurezza. Passiamo ora al bollettino del mare che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti venti moderati con mare poco mosso e buona visibilità. Vi ricordiamo che per ogni emergenza in mare potete contattare il numero blu 1530 o il numero unico per le emergenze 112, gratuiti su tutto il territorio nazionale. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto, arrivederci alla prossima settimana sempre con mare sicuro.